buonasera e benvenuti a una nuova edizione della discussione galattica per modellisti di cosa parleremo questa sera colombino dell'uscita delle sorelle guerriere in plastica comunque questo sono le sorelle guerriere spieghiamo un po cosa sono le sorelle guerriere capiamo perché sono sono le space marine donne perché sono le space marine perché non sono le space marine hai ucciso il paesiello l'hai appena trafitto allora spiegaci cosa sono lei spiegami cosa sono le sorelle guerriere io ho sempre associato le sorelle guerriere agli space marine io ho detto che le sorelle guerriere sono qui qui bisogna aiutare colombino soprattutto per aiutare noi ma tanto bisogna aiutarlo quindi concentriamoci forte 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 e quindi abbiamo evocato simone simone sei qui per aiutare colombino come l'altra volta quindi mi raccomando dacci dentro come l'altra volta bravo simone vedo che hai capito va bene andiamo avanti simone quindi ci stava dicendo colombino delle sororitas questo è interessante questo è interessante tu cosa ne dici? eh ha ragione è quello che volevo dire io riguardo a cosa? ma ci casca proprio? una pia come un razzo proprio fine in fondo avrà ragione no? riguardo a cosa? alle sorelle e cosa ha detto? che sono uguali gli space marine ha detto e ha ragione ciao simone è stato bello vederti vabbè mi sembra il caso di chiamare qualcuno di più valido si si bisogna concentrarsi bene visto che parliamo di sorelle ok concentriamoci sulle sororitas forte 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 vai ciao ciao io sono Naomi e sono una sorella di plastica coperta di cioccolato ma quindi sei simile a uno space marine sono uno space marine no come anche tu ti prego per favore allora allora Naomi ti abbiamo invocata per cercare di aiutarci con colombino vi auguri ok se posso dire una cosa ti ricordo che simone tentando di aiutare colombino è svanito nel nulla e o ogni tanto ancora oggi compare assumendo la forma di una busta di plastica dove sei lunga effetto di assurdenza molto bene sembra che sia stato colpito da malattie approcci da quando ha tentato di salvare colombino quindi precauzioni eh le sorelle guerrieri portano le armi dell'imperio forse fanno parte dell'inquisizione addirittura portano l'armatura potenziata così come fanno gli space marine però è un po' diversa beh è un'armatura da donna che caratteristiche ha l'armatura da donna? brava brava è sagomata diversamente tipo? dove? e... sulla... sulla? sulla? per favore sulla per favore eh sulla? 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 io non ho detto sulla hai detto sulla hai detto sulla? beh sul petto sul petto? è sagomata? sì a forma di? a forma di pettorale eh perché? e che altre caratteristiche ha questa armatura da donna? rispetto a quella degli space marine tipo non so c'hai i tacchi? no sì c'hai i tacchi davvero sono un po' l'equivalente di delle mon... suore... monache... guerriere diciamo... dell'imperatore io la farei passare non è proprio così però facciamola passare più o meno più o meno dai non è così molto... molto meno è così no? eh non è così domanda quanto è fisicamente alto uno space marine? dovrebbe essere alto più o meno sui due e mezzo o tre metri se non sbaglio giusto? facciamola passare sì no ma non è così non è proprio così ma va bene ci siamo vicini o mai una volta che? va bene le sororitas saranno alte come delle persone normali non sono geneticamente bui quanto è alta una persona normale? una donna più o meno su un metro settanta perché scusa tu sei alto? un metro settanta tu sei l'altezza di una donna se è una sororitas scupa signore colombino è una sororitas chiamate subito l'inviato Simone torniamo al punto le nostre sororitas perché colombino ci aspettiamo con ansia? ci sono persone che aspettano con ansia l'uscita di questi nuovi modelli in plastica perché? perché è una novità perché è una novità? in genere i modelli erano in metallo erano adesso come sono? adesso li faranno in plastica ma adesso in questo momento come sono? ancora in metallo quindi sono disponibili sì e perché quindi ci aspettiamo con ansia se già ci sono in metallo che li facciano in plastica? cosa cambia? beh perché il metallo è molto più difficile da maneggiare vabbè diciamo che è più difficile da e lavorarci è più difficile possiamo dire che le sorelle guerriere rappresentano uno degli ultimi eserciti TGV che è dal tutto metallo quindi che costava tanto in termini di singolo modellino anche a livello economico e ancora oggi costa molto e ancora oggi costa molto diventa un esercito che tutti quanti adesso possono giocare e inserire nella loro collezione senza contare che l'aspettativa sui modelli in plastica è alta anche perché ci si aspetta una dinamicità nuova dei modelli viste anche le nuove uscite anche per quanto riguarda Aos, Age of Sigmar con la nuova fazione degli Elfi sottomarini o orecchie a punta sottomarini gli Elfi pesce finalmente eccetera 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 a questo punto ci aspettiamo anche per Soranitas comunque dei modelli molto più dinamici e molto più dettagliati diciamo che TGV sta tornando indietro su quello che era il passato perché se per Necromunda stanno andando avanti tornando indietro stanno andando avanti tornando indietro mi fa male stare vicino a dire si sta tornando indietro riprendendo un sacco di vecchi concetti abbiamo visto gli squat per Necromunda abbiamo adesso il ritorno della Deptus Sororitas quindi è una parte molto importante secondo me è un grosso cambiamento secondo me sono dei modelli che vivono in metallo e adesso li fanno in plastica fondamentalmente per Colombino ha cambiato il materiale diciamo che il nostro Colombino come lui aveva promesso in realtà una volta cioè nello scorso episodio delle discussioni galattiche funziona un po' come un tiranide cioè sente la mente dell'alveare sei tu che hai permesso che in questa puntata avremmo parlato di tiranide ad esempio eh possiamo parlare di tiranide parliamo di tiranide cosa sai dei tiranidi? no non iniziamo così che tanto non sa niente possiamo evocarlo lo sfondo devo dirti Paesiello che comincio a trovarti più interessante del solito però secondo me c'è stato qualche disturbo guai quindi mi concentrerei di nuovo per evocare lo sfondo devo dire che ti preferivo prima però almeno mi rispondo adesso Paesiello fare così provo a fare così così proprio così non funziona cosa non funziona non funziona non funziona non funziona qualcosa prima funzionava molto meglio devo parlando di cose serie parlando di cose serie raccontaci del motivo per cui la tua mente dell'alveare del si però anche tu hai permesso ai nostri spettatori che avresti parlato dei tiranide nella prossima puntata bene cosa dobbiamo dire dei tiranide? sono degli insettoni spaziali spiegola Naomi che magari Naomi non lo sa i tiranide sono una razza aliena dell'universo di Warhammer e Grottamira che arrivano da non si sa dove non usano una tecnologia particolare per spostarsi quindi ci mettono un sacco di tempo hanno queste navi che sono fatte di bio materiali essere allergico colombino è probabile degli insettoni giganti perché ti piacciono così tanto? sono belli anche a me piacciono gli insetti un sacco avete una cosa in comune che carini sono dei giganteschi blattoni spaziali che vanno in giro a mangiare i pianeti nel senso che loro ricercano la biomassa che sarebbe la qual è la biomassa? io mi chiedo perchè ti infili incerti più le sac? non sai un piffero di niente? la biomassa sarà la massa degli organismi viventi lo so è giusto ma perchè ti sei bloccato a chiedere cos'era la biomassa ma soprattutto io metterei un sottotitolo studi fisica parca putt miseria saranno loro ricercano la biomassa nell'universo e quindi per fare cosa? per riprocessare la biomassa e aumentare le loro flotte diciamo a che scopo? vogliono soltanto mangiare tutto quello che trovano perchè? questa non si sa è reale cosa si sa si sa? chi è che controlla i tiranidi? si pensa che sia una divinità del caos mi sembra non è una divinità del caos? chi è che controlla i tiranidi? la mente dell'alveare vedi anche no mi lo sa la mente dell'alveare ok ok va bene persino i fermentinati si lo sa si ma la mente dell'alveare si c'è anche questo aspetto qui importante effettivamente quello che ti stavi dimenticando dici? quello della mente dell'alveare ok cos'era la mente dell'alveare? in realtà è l'unica entità senziente che costituisce i tiranidi sono due sicuro che io sono l'unica senziente va bene ok quindi potremmo riassumere con il fatto che per esempio il nome potrebbe essere la mente dell'alveare e tu lo blatta tutte e tante no la storia di queste blatte aliene in realtà è molto vicina alla storia delle blatte normali che loro si sono evolute e sono praticamente vai vai dillo una cosa intelligente una cosa buona in tutto questo video beh nulla comunque sono degli insetti che si sono evoluti in modo tale che riescono a resistere a massime temperature di calore e di freddo e anche radiazioni atomiche sono sì sono veramente anche se il tardigrado invece è quello che resiste di più è proprio un mortale che ha un vermone è tipo il vermone c'è il di bene tipo il vecchio occhio solo per voler fare un paragone con i tirani ero vecchio occhio solo ero un carnefice oddio mio vabbè ma lasciamo stare no no uno crossail è il carnefice e che cosa succede è un carnefice che forse è molto grosso immagino banalmente che non è rimasto da solo probabilmente su un pianeta mentre tutta l'invasione di tiranide è scimata su quale pianeta? pianeta McRage uno dei pianeti dell'ultramarine anzi il pianeta dell'ultramarine che bella quando la via flotta bimoth arriva arriva viene massacra viene ricacciata dove se ne è venuta però rimane questo unico organismo tiranide sul pianeta e perché rimane da solo? un pianeta ostile capito? perché il pianeta è ostile? beh sì ci sono le specifarine abbastanza ostile e perché non lo trovano? perché non lo trovano? non mi ricordo perché gli sparano una cannonata plasma in un occhio e quindi diventa vecchio occhio solo solo rimane solo quindi ancora più solo è un organismo tiranide particolarmente resistente e singolare che tra l'altro ha la peculiarità di postare su facebook dei piatti che cucinano da solo per se stesso sì è il vecchio chef solo è solo è chef solo cioè nonostante i tiranidi siano composti da moltissimi organismi di fatto vengono guidati da un unica mente come se fossero nel loro complesso un'unica entità senziente che comanda tutti i tiranidi e non ti farle concentrare stai andando bene dai 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 che comanda tutti i tiranidi e dirige le bioflotte combatti combattilo dai combattimi e dirige le bioflotte cos'è quel pussavia che hai fatto? dirige le bioflotte nella galassia vabbè e quindi c'è insomma diciamo non so quale sia lo scopo nessuno sa quale sia esattamente lo scopo dei tiranidi se non quello di accrescere la biomassa che hanno a disposizione in realtà qualcuno lo sa si sa potremmo anche dire che la mente alveare perciò dire si vuole tornare a casa o se non vuole andare da un'altra parte per non morire di fame si fondamentalmente ha bisogno di sostentamento continuo e quindi deve divorare al mondo ci sono delle teorie che dicono che in realtà questi siano i primi tentacoli della mente dell'alveare probabilmente lo abbia realizzato si è ancora più grande abbia realizzato di non avere probabilmente la forza una volta che si è mangiato tutta la galassia di fare il salto perciò non arriva in forze ok ed è anche in una fase di stallo sta studiando sta cercando di capire se la cosa si possa fare o no in un momento in cui arriverà molto probabilmente non ci sarà forza nella galassia in grado di fermare la mente dell'alveare colombino quindi cosa vuoi dire a Naomi? vedo ci sono troppe distrazioni in questo momento il po' che me l'abbia ammassa io... non sta nemmeno l'acchio a tutti i pali quindi questo dimostra che colombino è un tiranide visto che comunque diciamo non ti hanno aiutato a raccontare non troppo esatto nessuno mi aiuta nessuno... beh adesso non esageriamo lasciatemi finire diciamo che oggi la presenza questa presenza femminile ti ha aiutato in qualche modo non si sa per quale motivo forse la tua mente è alveare ti ha aiutato a raccontare dei tiranidi abbastanza in maniera autosufficiente con qualche consiglio ma diciamo che la maggior parte delle cose quindi dai io direi un ringraziamento a Naomi grazie comunque io farei un saluto a Simone ciao Simone ciao Simone ciao Simone grazie di essere stato con noi stasera e poi comunque vorrei fare un saluto a tutti coloro che ci seguono sulla nostra pagina facebook e su youtube salutarli io chiaramente magari da parte vostra anche dite dove lasciare un commento se avete una discussione per una delle prossime discussioni galattiche fatecelo sapere qui e mettete un mi piace alla pagina ok al canale youtube alla pagina e scrivetici tutto quello che volete sapere o che non volete sapere se volete appuntamenti con colombino impegnato colombino tieni si muovi dai questi sono segni di forte amicizia comunque salutiamo tutti i nostri amici a casa e soprattutto iscrivetevi al nostro canale youtube iscrivetevi ciao ciao